La tensione è alle stelle in questa puntata integrativa di Endless Love. Ogni dettaglio è carico di emozione, e ogni personaggio si trova al limite delle proprie scelte. Emir sta orchestrando un piano oscuro, uno di quelli che potrebbero distruggere tutto. Sta muovendo i fili in modo sottile, e uno degli elementi chiave del suo piano è Asu, che ora si trova proprio a casa di Kemal dietro suo ordine. Asu è lì, apparentemente vulnerabile, con il volto segnato da una finta tristezza. Ogni parola che esce dalla sua bocca sembra studiata, ma dietro c'è qualcosa di molto più subdolo. Prima di continuare a scopre cos'altro farà Emir a Nian, iscriviti al canale e lascia il tuo like. Ed ora scopriamo cosa succede. Nian, invece, è sola nella camera di Denise. Il silenzio della stanza sembra soffocarla. Si siede sul letto, lo sguardo fisso su un punto indefinito, mentre dentro di lei si scontrano i sensi di colpa. Ogni fibra del suo corpo è attraversata dal dolore per non aver detto la verità a Kemal, per aver nascosto una parte così importante della loro vita. Vuole dirglielo, deve dirglielo, ma sa che ciò che sta per rivelare potrebbe distruggere tutto. E a peggiorare la situazione, Emir sembra aver capito tutto. Nian lo sente, lo percepisce, come una presenza oscura che la sta osservando da lontano. Il timore che Kemal scopra tutto attraverso le bugie di Emir è devastante. Quando Kemal torna a casa, la tensione cresce. L'atmosfera è quasi irrespirabile. E lì, in mezzo a tutto questo, c'è Asu, che lo aspetta come se fosse vittima degli eventi, con l'aria affranta. Ma Kemal non si lascia ingannare facilmente. Lui sa che dietro quel volto segnato dal dolore c'è una mente calcolatrice. «Cosa stai facendo qui, Asu?» le chiede, mantenendo una freddezza glaciale. Lei, con gli occhi lucidi, insiste di non averlo mai tradito, giurando che tutto quello che vuole è non perderlo. Ma Kemal, seppur dubbioso, non cede del tutto. La lascia restare, anche se il sospetto dentro di lui continua a crescere come un'ombra scura che non riesce a dissipare. Contemporaneamente, un altro dramma si sta svolgendo. Galip rientra nella sua lussuosa casa, solo per trovare Ayan che lo aspetta, seduto con una pistola appoggiata sul tavolino. La tensione nella stanza è palpabile, Galip, che di solito è sicuro di sé, e abituato a comandare. Ora è paralizzato dalla paura. Ogni passo che fa sembra pesare una tonnellata. Ayan lo guarda con freddezza, gli occhi pieni di disprezzo. Non ho mai ucciso nessuno, gli dice, ma potrei iniziare ora. Galip capisce che non c'è via di fuga. Seduto sul letto, terrorizzato, si vede costretto ad accettare l'ultimatum di Ayan. Il potere che pensava di avere si sgretola in quel momento. Nel frattempo, Nihan cerca conforto parlando con sua madre. Ogni parola che esce dalla bocca di sua madre la tocca nel profondo, e finalmente si convince di ciò che deve fare. Dire la verità a Kemal. Il peso del segreto è diventato insostenibile, ma la paura delle conseguenze le stringe ancora il cuore. Sa che Kemal la proteggerà, ma la strada che li aspetta è oscura e piena di ostacoli. Mentre Nihan è immersa nei suoi pensieri, Asu, che si trova ancora a casa di Kemal, approfitta di un momento di distrazione. Con mano esperta, manomette il telefono di Kemal, sapendo perfettamente cosa sta facendo. Ricorda ogni dettaglio della password e riesce a sabotarlo con precisione. Questa mossa è su ordine di Emir, che ha un piano ben preciso. Vuole controllare ogni comunicazione tra Kemal e Nihan. La svolta arriva quando Nihan, decisa a fare chiarezza, prende finalmente il telefono e chiama Kemal. Vuole metter fine a tutte le bugie e vuol parlargli di Denise, ma qualcosa va storto. Al telefono non risponde Kemal, ma Emir. Il cuore di Nihan batte forte. Non sospetta minimamente che Emir abbia manomesso il telefono di Kemal per deviare tutte le sue chiamate. Ogni parola che lei dice, Emir la ascolta in silenzio, con un ghigno soddisfatto. Il suo piano sta funzionando alla perfezione e questo lo fa sentire in pieno controllo della situazione. Nihan propone a Kemal di vedersi vicino alla spiaggia, ma il tono di Kemal sembra strano, distante. C'è qualcosa di sospetto, qualcosa che non torna, ma lei è troppo concentrata sulla sua decisione per rendersene conto. Nel frattempo, Emir è con quella finta giornalista che aveva intervistato Kemal. Tutto è parte di un piano premeditato. Lei ha registrato alcune delle frasi che Kemal dice abitualmente e Emir intende usarle per incastrarlo. Dopo la chiamata, Kemal guarda le foto di Nihan e Denise sul suo telefono. Il suo sguardo è pieno di dubbi. Ogni immagine gli ricorda tutto ciò che ha perso, tutto ciò che potrebbe ancora perdere. Emir, dal canto suo, sta già pianificando la mossa successiva. La mattina seguente chiama Asu per assicurarsi che il telefono di Kemal sia stato sistemato, mentre lui, senza alcuna esitazione, manomette anche il telefono di Nihan, questa volta mentre lei dorme. E poi, nel momento in cui tutto sembra precipitare, Emir prende Denise e la porta via. Ogni dettaglio sembra orchestrato alla perfezione. Nihan si sveglia, ma non è pronta per la tempesta che la sta per travolgere. Quale sarà il prossimo passo? Se volete sapere come andrà a finire questa storia, continuate a guardare il video e iscrivetevi subito al canale per non perdervi neanche un dettaglio. Zeyr nota subito qualcosa di strano. Vede Emir uscire di casa in fretta e, senza esitare, prende il telefono per chiamare Kemal. La tensione nella sua voce è chiara mentre gli spiega la situazione. Kemal ascolta, mentre il battito del cuore sembra accelerare. Sa che questo è il momento giusto per agire e manda immediatamente un messaggio a Leila dicendole di andare a casa di Emir e cercare la carta d'identità di Denise. È arrivato il momento di scoprire la verità. Nel frattempo, Nihan, ansiosa, va a cercare Denise nella sua stanza. Quando vede che il lettino è vuoto, il suo cuore ha un sobbalzo. Si precipita nella camera di Emir sperando di trovarli lì, ma nemmeno lui è in casa. La domestica, notando il suo smarrimento, le dice che Emir è uscito con Denise. Nihan, in preda all'agitazione, prende il telefono e chiama subito Emir. La voce di lui è calma, quasi distaccata, mentre le dice che sono fuori per prendere una boccata d'aria. Nihan insiste. Denise non sta bene, ha i denti che la infastidiscono. Deve tornare subito a casa. Emir però, con un tono calcolatore, la invita a raggiungerli per una colazione alle nove. Nihan sa benissimo cosa significa quell'invito. Proprio a quell'ora ha un appuntamento con Kemal. Emir, con fare subdolo, la sta mettendo alla prova. Vuole vedere se, una volta chiusa la chiamata con lui, Nihan contatterà Kemal, sapendo che il suo telefono è stato manomesso. Nonostante la tensione che la divora, Nihan decide di uscire. Sale in auto e, per calmare Emir, lo richiama. Lui, con un tono più pressante, le chiede se li raggiungerà. Ma Nihan mente, dicendo che è bloccata nel traffico, anche se in realtà sta andando all'incontro con Kemal. Emir, sospettoso, non molla. Che cosa può essere più importante di stare con me e Denise? La domanda è tagliente e Nihan svia, riattaccando con una scusa poco convincente su un posto di blocco. Leila, intanto, è già arrivata a casa di Emir. Il suo cuore batte forte mentre bussa alla porta. Le apre Vildan, che la guarda sorpresa e le chiede cosa ci faccia lì. Leila sorride, fingendo calma, e risponde con una scusa. È passata a trovare Denise. Vildan, però, le dice che la bambina è uscita con Emir. Leila coglie l'occasione per chiedere di usare il bagno e, non appena sale al piano di sopra, il suo piano entra in azione. Leila si trova nella camera di Emir. Ogni rumore sembra amplificato mentre fruga nei cassetti, cercando con le mani tremanti la carta d'identità di Denise. La pressione è alta, non c'è tempo da perdere, ma non riesce a trovare nulla. In preda alla frustrazione, chiama Kemal per dirgli che non ha avuto successo. Lui, dall'altro capo, le suggerisce di provare nell'ufficio di Emir, anche se Leila è contraria, temendo di essere scoperta. Mentre scende le scale, Leila viene notata dalla domestica. Il cuore le sale in gola, ma riesce comunque a dirigersi verso l'ufficio di Emir. Una volta lì, apre tutti i cassetti, controlla ogni angolo della stanza, finché finalmente, con un sospiro di sollievo, trova la carta d'identità. Scatta una foto e la invia subito a Kemal. Quando Kemal la riceve e vede il gruppo sanguigno di Denise corrispondere a quello di Emir, il suo mondo sembra crollare. La verità che ha temuto da tempo lo colpisce come un pugno. Leila, al telefono, cerca di confortarlo, ma la delusione nella voce di Kemal è palpabile. Anche se ha le prove davanti agli occhi, non può fare a meno di sospettare che Emir abbia falsificato i documenti. È convinto che il suo nemico sia capace di tutto e infatti scopriamo che Tufan, su ordine di Emir, aveva già manomesso i registri dell'ospedale. Nel frattempo, Zeynep è davanti alla casa di sua madre. Il sole inizia comincia a calare e lei resta nascosta, attenta a ogni movimento. I suoi occhi seguono la madre finché la vede uscire di casa. Questo è il momento. Con passo silenzioso e determinato, Zeynep entra in casa, sapendo esattamente cosa sta cercando. I ricordi della notte in cui aveva preso la foto di Denise le tornano alla mente, ma non può permettersi di esitare. Deve trovare quella foto e deve farlo in fretta. Si muove rapidamente tra le stanze, fruga nei cassetti con mani tremanti. La tensione cresce sempre di più. Ogni secondo che passa sembra allungarsi all'infinito, finché finalmente, con un sussulto, trova la foto. Si ferma, fissando l'immagine che tiene tra le mani. Il respiro le si blocca in gola. La verità che scopre è così devastante che per un attimo il mondo intorno a lei sembra fermarsi. Tutto quello che credeva di sapere ora sembra crollare. E adesso? Cosa succederà? Sono curiosissima di scoprirlo insieme a voi. Scrivetemi nei commenti lo voglio se anche voi non vedete l'ora di sapere come andrà a finire. E ricordatevi di iscrivervi al canale per rimanere aggiornate su tutte le novità. Io sono Elisa e come sempre vi mando un grande abbraccio. Ci vediamo nel prossimo video!